Ma volevo anticiparne una, magari se tu lo dici solamente, scusate se ne faccio due, cioè proprio hai parlato del decollo, ma in quei pochi secondi iniziali, dove sei un uomo, non sei un astronauta secondo me, cioè lì hai terrore, paura tipo il segno della croce, oppure l'emozione o l'adrenalina è così forte che ti fa superare quella fase, se mi dici solo questo. Poi sugli UFO è chiaro, io la faccio sempre questa domanda, tu hai avuto la sensazione di qualcosa, oppure vivendo in questi ambienti dove sicuramente interagisci con persone che da anni vivono in un certo tipo di struttura, di organizzazione, che cosa si dice da questo punto di vista? Allora, per la prima domanda paura no, ma non perché sia incosciente, perché comunque chi fa un'attività d'astronauta con qualunque mezzo lanci è comunque un'attività che non può essere a rischio zero, solo per il fatto dei propellenti che tu maneggi e per la complessità dei veicoli. Io distingo sempre che in italiano si capisce bene la differenza tra paura e timore. E tu hai, segui un addestramento che quando uno ci pensa è veramente estremamente ripetitivo quello che fai da astronauta. Ripeti le cose, guarda, alla fine non ce la fai più proprio, perché ti escono dalla punta dei capelli. Però è una tipologia di addestramento che serve per cercare, diciamo, di sviluppare una capacità razionale, a volte anche di fronte a indicazioni che sono tutto forche razionali. Come per esempio è accaduto nel nostro caso. Avevamo simulato tutto l'inverosimile, ovviamente se è capitata la cosa che non era mai stata simulata. Però non per questo uno agisce, ha agito istintivamente, che è la conseguenza diretta della paura, che se uno ci pensa, se uno ha paura, tendenzialmente agisce per istinto. E' quello che ci fa fare, almeno sicuramente a me, un salto indietro quando vedo un serpente prima ancora di sapere se è velenoso o no. Invece, secondo me, quello che uno deve sempre avere è un leggero timore, che però è quella sensazione che ti fa stare allerta. E' quella quantità di stress che ti rende vigile di fronte a cose che non sono nominali, di fronte a un qualunque tipo di emergenza. Ed è quello che ti permette di applicare poi alla fine con razionalità le procedure corrette e di analizzare in modo razionale le indicazioni che tu stai osservando. Io ho sempre preso, ho sempre avuto, diciamo che giocando un po' con le parole, così ci capiamo, ho sempre avuto paura quando mi sono trovato allineato con la pista su un aeroplano e non avevo un minimo di timore. Perché è la volta che mi hanno detto se è così sicuramente sto facendo qualche bagianata, se non è così. Invece, diciamo, il timore è quello che ti rende vigile. E poi per gli UFO, una domanda comune questa qua, io non li ho visti, non ne ho sentito parlare, però credo che sia un po' una cosa che ci si domanda dai primi astronauti. Se vi ricordate chi è nato in orbita proprio all'inizio sia americani che russi hanno riportato, che vedevano delle luci, eccetera. Quindi è stato subito associato questa cosa qua agli UFO. Invece c'è un fenomeno che è molto risaputo, adesso è conosciuto, che è localizzato sull'Atlantico del Sud. C'è un buco nelle fasce di Van Allen, tanto che viene chiamato South Atlantic Anomaly, in cui attraverso questo buco riescono a passare delle particelle ad alta energia, che normalmente invece vengono intrappolate dalle fasce di Van Allen, quindi messe in circolo attorno alla Terra, non arrivano mai su una superficie terrestre. Queste particelle ad alta energia sono senza massa, riescono a passare attraverso le pareti dello shuttle, addirittura a colpirti la retina, come esattamente fa un fotone dal punto di vista meccanico. Quindi quando tu sorvoli questa zona di notte, anche con gli occhi chiusi, perché sei a letto e sei nella tua cucetta, vedi dei flash, che sono flash veramente all'interno dell'occhio, dovute a queste particelle che colpiscono appunto la retina. E a seconda che la colpiscono in maniera perpendicolare, vedi una specie di fuoco d'artificio, se la colpiscono in obliquo vedi quelli che chiamano streak, per cui molti nel passato hanno associato la visione di queste luci, che poi è stata spiegata da un punto di vista fisico e scientifico, con il fatto che si vedevano UFO eccetera. Quindi però altri esseri non ne ho visti. Il che non vuol dire è che io non creda alla vita extraterrestre, anzi io ci credo. Se voi pensate che hanno trovato sulla superficie esterna della stazione spaziale delle spore che sono sopravvissute per più di 15 giorni nel vuoto assoluto sulla superficie esterna. E quindi diciamo che io non credo al marziano, al venusiano, con l'occhio di polifemo, all'omino verde, ma pensare che siamo effettivamente da soli nel nostro universo con la vita nelle forme che può prendere la vita, non necessariamente come la nostra forma, ma una qualsiasi forma di vita, che non ci sia qualcos'altro, ci sono 100 miliardi di galassie, di stelle nella nostra galassia e più di 100 miliardi di galassie. Allora anche se uno non è un matematico per un calcolo probabilistico, considerando anche la dimensione tempo, passato, presente e futuro, pensare che siamo veramente da soli, non so, ci vuole una certa arroganza intellettuale, penso. Grazie.